Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma sei aperto il menù! Ma perché? Perché sei un buco! Sei aperto il menù, sei aperto! Ma porca! Vuoi giocare tu? È l'aggiornamento! Niente da fare, raga! Niente! Io mi dissocio completamente! Siete che una volta su YouTube si potevano dire certe cose! Porca trota! Porca trota! Andiamo a vedere l'aggiornamento! Merda! Una volta si potevano parlare in maniera diversa Comunque ci dissociamo assolutamente Non me lo aspettavo neanche io sinceramente Non ero... Posizione non molto bella Abbiamo due impulso Ciao Shadow! 13 mesi E si rinnova a più 13 Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Mi sognava parla con uno che ha appena finito il set base in PSA 9.10 prima edizione quindi lasci stare so cosa vuol dire uno dei primi set e esagerare ero deciso se comprare una macchina o un Charizard ho comprato un Charizard dicono di si la macchina si svaluta appena e si dal concessionario il Charizard prende solo valore allora quindi la bianca per qui sono due eccolo la ma sono abituato con le build non venire non venire non venire non venire non venire non venire a morire ti prego che cosa cazzo ti dice la puttana di testa di merda ripiena di merda che ti trovi cristo dio della madonna se il tuo mate muore non ti devi azzardare a farti vedere minchia celebro leggi di merda si ma lui è ovvio che inglese cosa 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 andiamo 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 no sir e non l'ho visto la ringrazio ma che cosa stai dicendo ma cos'è che stai dicendo ma che problemi ha questo ma cos'è che sta facendo vabbè 4878 42 posizioni perse guardo subito rebo ok il 5501 perfetto aspettiamo un secondo raga anche perché secondo me la possibilità concreta ci potrebbe essere io una volta ce l'avevo sicuramente da qualche parte il buon vecchio g ma tu sei a scuola fefac o sei operativo vabbè stefa facciamoli insieme nel senso abbiamo già detto che lo facciamo insieme stamattina quindi è giusto così ieri ieri la pami ha fatto una grande beleg lo tenga spero che ti sia piaciuto il pool ti ho però preservato benissimo le bustine chi tocca chi tocca c'è suo fratello che si chiama Pietro e ce l'abbiamo ce l'abbiamo in the building no ok 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 attenzione che però deve uscire di nuovo un metagross di nuovo un metagross però è incredibile come i doduo vengono prova a riavviare il modem e fai la live si poi prendo il cazzo lo metto nel tritacarne stasera faccio il sugo non parlate se non sapete non parlate non aprite quel buco del culo per dire stronzate fate più bella figura e non parlare cosa buona cosa interessante cosa buona e giusta signori Baltoi bello buono così molto bello si va subito Stario anche lei sempre presente e si prosegue Oddish non ci può mancare Snorlun mai vista carino 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 Snorunt Snorant o Snorunt ti vuoi da male su Twitch e su YouTube Luca noi ci vediamo alla prossima assolutamente Pietro ehi Pietro è giusto 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 gli strega sta mano giusto giusto ragazzi noi ci vediamo in live al prossimo sbusto dai un pezzo di merda chi è che mi ha ok piano piano bro 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 sono morto da solo sono morto da solo cil 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 sono morto da solo non si è grappato non si è grappato non si è grappato che sono più non hanno la batteria ciao guero buongiorno io ho preso il testo tre tre pleuri tre pleuri ne abbiamo un'altra da sbustare mentality i server purtroppo non stanno ancora andando ragazzi Kando ti volevo scrivere su Discord come sta dovevo venire a Londra ma poi mi fanno andare a lavorare a Luca Comics e quindi niente Maki come stai volevo parlare con te di una roba ma per quale cazzo di motivo non tengono tre secondi per quale per quale